La ItalCertifer a Firenze e la CNOR Bremse a Campi Bisenzio, due realtà strategiche del distretto ferroviario toscano, sono state al centro della visita del presidente della regione toscana Enrico Rossi e dell'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Prima tappa è il test center di ItalCertifer, società del gruppo Ferrovie dello Stato, leader nel testing e nella certificazione di sicurezza ferroviaria. Dal 2015 la Toscana all'11% del capitale sociale della società, attiva in molti paesi esteri, dall'Arabia Saudita all'India che conta 150 addette a tempo indeterminato. Vogliamo esprimere questo legame tra regione e questo momento decisivo per produrre treni e treni all'avanguardia. Se posso fare un'analogia, questo è un atto di politica industriale, quella cosa che al nostro paese a volte manca un po', diciamo così. Una realtà importante del distretto tecnologico ferroviario della Toscana, formato da 114 aziende che per il 55% coprono la produzione di treni e materiale rotabile e per un altro 40% i sistemi di controllo. ItalCertifer è leader della sicurezza ferroviaria non solo in Italia ma anche nel mondo e lo è grazie anche al contributo delle due università toscane che ovviamente insieme alla regione toscana, insieme al contributo di rete ferroviaria italiana che ci ospita in questi laboratori, creano un circuito virtuoso. A Pistoia, Firenze e Pisa la maggior concentrazione di aziende del distretto che attrae sempre più investimenti dall'estero. Sicuramente uno dei più importanti del paese, c'è una lunga e storicizzata tradizione di presenza di aziende che producono componentistica, che realizzano treni. Seconda tappa del tour di Rossi e Ceccarelli, la Knorr Braims è leader mondiale nella produzione di sistemi frenanti e per la sicurezza dei treni, dalla videosorveglianza alle porte e alla diagnostica di bordo. Noi siamo in una regione eccellente e cerchiamo di stare al pari dell'eccellenza della regione che rappresenta nel mondo anche nel settore ferroviario. La nostra azienda è la numero uno al mondo per quanto riguarda soprattutto sistemi frenanti, ma colunque sistema tecnologico che è a bordo treno. Ogni giorno sono due miliardi le persone che viaggiano su treni alta velocità regionali tram e bus equipaggiati con il gruppo Knorr Bremse.